Ho capito diverse cose lungo il mio percorso, ma la cosa principale che veramente ti cambia l'approccio è capire che per raffrontare la balbuzia, la balbuzia va mostrata. Non si può mai pensare di smettere di nascosto, non facendolo sapere a nessuno, perché anche semplicemente apportare qualunque cambiamento comporta un mostrare. Ha citato prima Einstein Rocco e penso fosse sempre lui che diceva per ottenere un risultato diverso devi fare azioni diverse. Molto semplice. E quindi io stavo imparando a fare quelle azioni diverse e il risultato che ottenevo era il non bloccarmi. Ma solo di fare quelle azioni diverse nella mia testa era un mostrare a tutti che sto facendo azioni diverse e quindi mostrare a tutti che sto cambiando, mostrare a tutti che sono un balbuziente, lo sono sempre stato, non sono un balbuziente ma mi sono comportato finora da balbuziente, ho avuto l'abitudine di creare bloc finora e ora sto cambiando questa abitudine e il fatto di mostrare questa cosa mi era complicatissimo perché ancora non volevo mostrare di essere balbuziente e quindi durante il mio percorso alla fine in aula all'università ho chiesto finalmente una domanda con tutti gli sforzi del mondo, con tutta la porta di volontà del mondo perché è stato veramente una delle cose, forse la cosa più complicata che ho fatto durante tutto il mio percorso perché quello proprio lo vedevo come una cosa che non avrei mai fatto nella vita proprio e invece lì ho preso magari non perfettamente perché ovviamente la prima volta ero pieno di ansia, ero così e quindi non perfettamente ma almeno l'ho fatto, ho rotto il ghiaccio, almeno ero libero. Se voglio chiedere qualcosa la chiedo perché io per anni mi sono tenuto i miei dubbi e quindi tornavo a casa con mille dubbi e finalmente mi sono conquistato quella libertà anche solo di chiedere una domanda all'università e quindi man mano mi sono conquistato man mano i miei tasselli, i miei pezzetti di libertà. Ciao, se non mi conosci ancora sono Ottavio Lombardi, ho balbettato per tanti anni e da quando ho capito come fare a parlare fluentemente ho deciso di mettere a disposizione di tutte le persone che soffrono di balbuzie le conoscenze che mi hanno permesso di dire tutto quello che voglio come e quando voglio senza più bloccarmi ed è per questo che ho creato Libera le tue parole, il primo ed unico percorso in Italia che ti consente di imparare a parlare fluentemente e a smettere di balbettare allenandoti direttamente da casa. Devi sapere che iniziare il tuo percorso è semplicissimo, ti basta infatti uno smartphone oppure un computer per cominciare a studiare le video lezioni oppure se vuoi accelerare ancora di più i tuoi progressi puoi scegliere di farti seguire da un coach ufficiale di Libera le tue parole, sia con degli allenamenti privati oppure con degli allenamenti collettivi. In ogni caso che tu voglia farlo da solo tramite i video lezioni pre-registrate o insieme a noi tramite i video chiamate durante il percorso imparerai come fare a muovere la bocca e a gestire l'aria per parlare senza blocchi e soprattutto imparerai a farlo in maniera estetica senza l'utilizzo di strane tecniche che ti fanno parlare in maniera ridicola e efficace come questa che ti ho appena imitato senza strane candilene e senza dover spezzettare la frase in questo modo. Io lo so che puoi essere scettico perché probabilmente in questi anni ne hai già provate tante per liberare le tue parole ed è per questo che ti dico di non credere a nulla di quello che ti dico ma di sperimentare, provare per credere. Devi ottenere dei risultati che ti possono dimostrare che tutto quello che ti sto dicendo è possibile ed è per questo che ti consiglio di contattare il nostro numero verde oppure se preferisci scrivici un messaggio whatsapp per farti spiegare come poter accedere ad un weekend di prova un weekend durante il quale per ben tre giorni potrai provare l'efficacia dei nostri insegnamenti e solo dopo averli testati sulla tua situazione specifica e solo dopo aver ottenuto risultati e quindi verificato che tutto questo funziona anche su di te potrai scegliere se iniziare il vero e proprio percorso. Non vediamo l'ora di conoscerti se cominci a studiare i nostri video ti dico studia applica e libera le tue parole